Oh, e questa è la camera degli ospiti. Sì, generalmente ospita gli ospiti che ospitiamo. Che bella! Tutti i pezzi giusti, eh? Sì, i pezzi sono giusti al posto giusto. Ma perché sei triste? Ma diciamo che ho un attimo di spleen. Non ti prende mai lo spleen? No. Sì, 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 come non è. Qualche volta mi prende lo spleen. Però io con l'aspirina e un po' di vino brulè mi passo. Se i sentimenti si potessero curare con le aspirine, le farmacie farebbero tutte sorritte. Ma perché non ti ho incontrato prima dalla mia vita? La vita è un balzo. Forse non sono alla tua altezza. Ma perché? Quanto sei a? Sono a basso 1,58.